Come si valuta lo stato nutrizionale dei pazienti con malattia di Crohn o colite ulcerosa? Ci sono dei cibi da evitare? Se ne è parlato a Napoli durante un evento focalizzato alla nutrizione come supporto alla terapia nelle mici e noi approfondiamo l'argomento con il professor Fabrizio Pasanisi. L'evento ha avuto il patrocinio dell'associazione Amici Onlus ed è stato supportato in maniera non condizionante da Fresenius Cavi. Professor Pasanisi, quale ruolo gioca la dieta nelle persone con malattie infiammatorie croniche intestinali? È una bella domanda, non ha una risposta proprio immediata. Sicuramente c'è da dire che non è la dieta che provoca le malattie infiammatorie croniche intestinali. Piuttosto chi ha malattie infiammatorie prima ancora di avere una diagnosi tende, precisa che possa chiarire esattamente di che cosa si tratta, tende a modificare un po' la sua alimentazione mettendo in relazione i sintomi con il cibo e quindi scambiando qualche volta o attribuendo anche erratamente una responsabilità a determinati alimenti. Per cui progressivamente tende ad eliminare alcune preparazioni, alcuni piatti, anche cose che piacciono poi al paziente o all'ammalato o alla persona della quale poi si verrà fatta una diagnosi precisa. Per cui ci troviamo con delle abitudini alimentari che possono essere modificate in relazione ai sintomi senza sapere però che ci troviamo già di fronte a una malattia. Senta professore, però a cos'è che bisogna stare maggiormente attenti? Ci sono dei cibi da evitare e altri da considerare maggiormente? Una volta fatta la diagnosi e compreso anche lo stadio della malattia infiammatoria ci sono diversi momenti in realtà. Per esempio ci sono delle condizioni più marcate di stenosi dove i pazienti possono avere delle subocclusioni intestinali. In quel momento naturalmente l'alimentazione sarà già stata giustata ma bisogna stare attenti che questi sintomi non vengano poi addirittura esaltati per esempio da alimentazione molto ricca in fibre perché sono soltanto poi le fibre, le fibre vegetali, le fibre spesse che possono creare dei problemi durante gli episodi di malocclusione. E per questo poi dovrà essere successivamente riadattata poi la dieta dopo per esempio tanto la terapia ma particolarmente interventi chirurgici se sono stati effettuati degli interventi chirurgici anche risolutivi delle stenosi che si sono venuti a determinare. Professore, come viene valutato lo stato nutrizionale in queste malattie e come definite il rischio nutrizionale? Per lo stato nutrizionale noi abbiamo prima di tutto alcuni indicatori molto semplici a cominciare dal peso. Il peso, l'altezza, l'indice di massa corporea, alcune circonferenze, alcune misure di muscolarità, alcune misure di forza per esempio anche di forza della mano. Questi sono dei parametri che ci possono aiutare in termini semplicemente antropometrici o anche in termini di funzionalità muscolare. Ci sono degli indici biochimici che ricaviamo dagli esami di laboratorio che vanno naturalmente dalla glicemia, alla colesterolemia ma così anche indirettamente l'emoglobina o la pseudocolinesterase. Insomma ci sono degli indicatori nutrizionali precisi per questo. In fase di cattiva alimentazione o di malnutrizione secondaria ad aggiustamenti che il paziente stesso può fare questi indicatori tendono a deteriorarsi. Nella fase invece di rialimentazione che deve essere adattata alla fase della malattia o anche nel caso dovessimo utilizzare dei supplementi o degli ulteriori supporti che possono essere parenterali per esempio se il paziente ha anche questa necessità e in alcune fasi questo può essere necessario. Allora il monitoraggio di questi parametri ci consente di comprendere se andiamo verso una fase di miglioramento per il nostro intervento. Lo stato nutrizionale è corretto. Può contribuire alla migliore riuscita delle terapie e in particolar modo delle terapie biologiche e biosimilari? Sicuramente un buono stato nutrizionale è molto importante per una migliore qualità della vita. Lo stato nutrizionale migliorato o comunque reso quanto più possibile vicino alla normalità migliora anche la risposta terapeutica ma questo vale per molte altre malattie. Per esempio anche per le neoplasie. Ma nel caso specifico naturalmente il miglioramento dello stato nutrizionale e il miglioramento della qualità della vita consentono anche una migliore risposta terapeutica o la possibilità che il paziente possa affrontare le terapie con maggiore serenità anche perché si sente semplicemente meglio. Grazie a tutti.